La giornata inizia presto. Cardinal Parolin si reca nello stabilimento Arcelor Mittal dove incontra le maestranze. A salutarlo, oltre all'amministratore delegato di Arcelor Mittal, Gell, anche i lavoratori. Ce n'è uno che viene dal passato, quando si chiamava Ital Sidere, Giuseppe Tosi, e un attuale, Orazio Gallo. Poi le sue parole, nette e chiare sul rapporto tra lavoro e ambiente. Sono parole che infondono fiducia a chi ha la responsabilità di amministrare questo territorio, perché ci danno il segno che stiamo facendo, anche in mezzo a tante difficoltà, in mezzo a qualche errore, però le cose giuste. Parlare di Taranto come di un laboratorio moderno, insomma, dove sperimentare e mettere in pratica questo connubio tra le esigenze del lavoro, della salute e della vita umana è molto significativo. Devo dire che ho molto apprezzato anche quanto detto dall'amministratore delegato Gell oggi, che conferma un po' quello che stiamo dicendo da qualche tempo, cioè la fiducia che l'approccio della nuova proprietà ci infonde. Ecco, sentirsi dire che non vale la pena neanche per loro produrre una sola tonnellata di acciaio se alla sera i lavoratori, insomma, le loro famiglie non possono essere sereni a casa, in salute, è veramente molto importante, perché vuol dire che la transizione che sta vivendo lo stabilimento e questa comunità è una transizione positiva, molto difficile, ancora lunga, ma dagli scenari assolutamente positivi. Così il sindaco Rinaldo Melucci nel corso dell'evento riecheggiavano le parole di San Paolo VI, l'uomo vale più della macchina e della sua produzione. Il giudizio del presidente della regione Emiliano sulle parole di Parolin. Mi auguro che i nuovi acquirenti di quella che un tempo chiamavamo ILVA rispettino evidentemente questo indirizzo, che è coincidente con quello della regione Puglia, coincidente con quello del buonsenso, coincidente con il trattato di Parigi COP21, con la laudato sì, con il convincimento dei principali paesi civili del mondo, quindi non c'è ragione per non adeguarsi. Quello che chiede l'azienda, se ho capito bene, è che anche il resto del mondo e dell'Unione Europea sia adatti a queste nuove regole per avere parità di concorrenza. E questo mi pare giusto, perché se ArcelorMittal farà il suo dovere, e noi vigileremo con grande attenzione che faccia il suo dovere, è anche giusto che pretenda che gli altri suoi concorrenti facciano la stessa cosa. Questo mi pare il minimo. Noi saremo al fianco di ArcelorMittal perché anche la questione della concorrenza sia risolta nella stessa maniera.